E' stato un primo maggio speciale per tutta la comunità cattolica pesarese. Proprio nel giorno dedicato ai lavoratori è cominciato il ministero religioso di Sandro Salvucci come nuovo arcivescovo metropolita di Pesaro. E' cominciato dopo 18 anni di carica ecclesiastica ricoperta da Monsignor Piero Coccia, che ieri ha ufficiato in Duomo la cerimonia dell'ordinazione e l'inizio del ministero pastorale per l'imposizione delle mani alla presenza dei vescovi ordinanti Rocco Pennacchio e Armando Trasarti. Una cerimonia partecipata a cui hanno preso parte migliaia di fedeli fra l'interno e l'esterno della cattedrale e fra Piazza del Popolo dove Salvucci si è poi spostato in corteo, presentato alla città assieme al sindaco Ricci. Una cerimonia seguita anche nella diretta televisiva di Rossini TV che ha mostrato in cattedrale le prime parole da arcivescovo di Salvucci alla presenza di tutte le principali autorità civili, militari e religiose. Oggi è stata una giornata speciale perché ho vissuto concretamente il distacco, per così dire, dalla mia terra dove sono vissuto tutta la vita e dove ho svolto il mio servizio, il mio ministero sacerdotale in 29 anni. Ma so di venire qui in una famiglia che non è diversa, ma è la stessa famiglia, la stessa famiglia composta da persone che vivono in Cristo, che vivono la loro fede e la vogliono testimoniare, desiderano testimoniarla. E quindi sono qui per condividere con voi la passione per il Vangelo, l'amore per la Chiesa, l'amore per la comunità, la passione per l'uomo. Che cosa vi posso dire? Sento che quello che stiamo vivendo è un'esperienza di Chiesa, di fede, che percorre il tempo e corre fino all'eternità. Parole di un vescovo che prima di tutto si sente parroco e che ha dichiarato la prosecuzione a Pesaro nella sua missione pastorale dopo 29 anni trascorsi nella comunità fermana di Monte Granaro. Sandro Salvucci ha scelto il motto Maiores Caritas, la più grande di tutte, e la carità come stemma che verrà fisso all'ingresso di tutte le Chiese della Diocesi. E quindi io chiedo al Signore di donarmi l'audacia, il coraggio di annunciare il Vangelo e ora in mezzo a voi, Chiesa di Pesaro, che sento già casa mia. Non me ne abbiano i Montegranaresi, i Fermani, ma ora per me, la mia casa, la mia famiglia, siete voi.